Secondo me questa legge è un po' la dimostrazione della suddittanza di questa amministrazione regionale rispetto al mondo venatorio. E la distanza di quest'ultimo dà un'idea di sostenibilità e attenzione verso la tutela della fauna selvatica. Valutiamo abbastanza insoddisfacente la mancanza di un piano a tutela, veramente a tutela, della fauna selvatica. Ad esempio non sono presenti delle tutele minime per la tortra di cui si consente addirittura la caccia in preapertura e che il Ministero suggeriva. Quindi credo che ci asterremo da questo voto.